bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite e sono tantissime le trovate racchiuse in questi pochi minuti insomma cosa dire qua c'è un bellissimo è una bellissima atmosfera che sento venire dalla community questa season piace bella io stesso mi sto divertendo non è pesante non ci sono collaborazioni strane e poi stanno succedendo e succederanno delle cose che sono certo vi piaceranno nel video di oggi parleremo di ciò che sta capitando nella mappa faremo un pochettino luce della storyline di questa season ovviamente vedremo il nuovo starter pack e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di una delle cose più incredibili che sono state ritrovate forse l'unica sfumatura leggermente brutta di quello che potrebbe capitare sembrerebbe che sia in lavorazione qualcosa di simile al brutto 2.0 chi non ha mai visto il brutto dovrebbe tornare a fare mento locale o a guardare qualche video del capitolo 1 di fortnite nelle ultime season avevano inserito proprio dei robot giganti che poi entrarono diciamo nel nel polverone delle polemiche dei pro player che era praticamente impossibile gestire giocare che era effettivamente così le partite con questi robottoni questo nuovo robot fa un po paura non è come gli altri però la community storce un pochettino il naso l'unica sfumatura nera speriamo speriamo che in realtà rimanga lì non lo inseriscano e non faccia parte di questa season ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che tra pochi giorni di solito succede sempre così nelle season arriverà il primo starter pack il primo starter pack si chiama diva pack voglio farvelo vedere ragazzi mentre ve ne parlo come si dice il prezzo sarà quello che siamo abituati a vedere quindi 4 e 99 se non vado errato e come vedete comprende un sacco di cose la skin diva ovviamente i 600 v bucks un piccone e un backpack non è assolutamente brutta come skin anzi è abbastanza carina per essere uno starter pack ne abbiamo visti davvero di peggiori quindi se lo volete acquistare come sempre appena sarà disponibile al prezzo di 4 99 ve lo portate a casa e lo andrete ad inserire nel vostro armadietto nella vostra collezione e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché cominciamo a capire un attimino quello che sta succedendo in fortnite allora dobbiamo tornare un attimo all'evento che abbiamo visto due giorni fa la cosa più incredibile ragazzi la troviamo proprio in questa immagine dove si dice holy crap mamma mia tradiaciamolo così la vera agenzia di jonesy è la stessa agenzia che viene dipinta nel quadro del trailer il che vuol dire che nel trailer noi eravamo molto probabilmente nello zero point voglio farvi capire meglio quello che si sta dicendo facendovi vedere il il video dedicato come vedete jonesy eccola lì ragazzi eccola lì jonesy sta uscendo dopo aver telefonato a chissà chi non lo sappiamo tutto si sta distruggendo per colpa del galactus e quella è proprio l'altra l'altra agenzia ecco l'agenzia del mondo reale come vedete dove c'è lo zero point se guardate in alto c'è l'acqua lo vedete benissimo dalle finestre soprattutto da quella finestra centrale che appunto fa vedere delle bollicine lui richiama in questo momento lo stesso zero point come vedete chiude tutto si crea un fascio di luce e come sappiamo tutti lui si butta all'inseguimento e la cosa più incredibile che succede che è quella in realtà che ci fa chiarezza su quello che sta succedendo e che stiamo vivendo è che non appena lui riesce a raggiungerlo la telecamera si capovolge di 180 gradi e si capisce che stiamo piano piano tornando ad un'altra realtà è un discorso un po contorto è un discorso un po strano ma in realtà ragazzi è una gran figata e vi dico anche il perché innanzitutto il donato il donato è un genio il donato rituita i suoi tweet quindi innanzitutto lui ci tiene a pubblicare questa frase molto semplice it's all connected pay attention the story is about to kick into overdrive in poche parole è tutto connesso ragazzi non perdete l'attenzione sulla storyline perché sta per succedere qualcosa di incredibile queste sono alcune frasi che sentiremo molto probabilmente andando avanti con la storyline ve ne parlerò con calma nei prossimi video ma quello che mi preme a farvi vedere è questa immagine ragazzi come vedete la mappa di questa season che è esattamente questa ha delle location a noi familiari abbiamo visto una specie di pinnacoli anzi è proprio pinnacoli non è proprio completa ma ci siamo abbiamo visto il ritorno del laboratorio della latrina e di altre cose ma la cosa incredibile ragazzi è che queste location sono esattamente negli stessi punti di dove era la mappa nella season 1 il che è veramente una cosa incredibile perché potrebbe anzi sembrerebbe proprio che stiamo tornando indietro quindi che magari lentamente la mappa della season 2 svanisca con l'arrivo di johnsy dal punto 0 alla realtà e si torni alla mappa del capitolo 1 è una supposizione ma ci sono davvero tantissimi elementi che ci fanno pensare a questa cosa e a me piace pensarla così insomma ragazzi non voglio andare troppo oltre con le news perché ce ne sono tante e abbiamo tanti giorni prima del primo aggiornamento che è già pronto la patch 15.10 l'hanno già completata sono già la 15.20 secondo me la vedremo prima di fine anno ecco penso vedremo un solo aggiornamento prima di fine anno quindi vi ringrazio tanto per avere guardato questo video ma mi raccomando raga schiacciate il like mi raccomando lasciate un commentino sotto se vi va così mi aiutate a mandare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao